Buongiorno a tutti, buongiorno agli intervenuti. Siamo qui per il debutto in società dell'AIVS, l'Associazione Italiana Vittima delle Sette, e la presentazione alla stampa del Centro di Assistenza Psicologica e Legale dell'Associazione. Rinnovando i saluti e il ringraziamento per la vostra presenza, lascerei prima spazio alla proiezione di un video e successivamente passiamo agli interventi dei rappresentanti dell'Associazione. L'Associazione Italiana Vittime delle Sette è stata fondata nel 2016 da persone che hanno sentito la necessità di unirsi per fornire un concreto sostegno a chi si trova a vivere l'esperienza di un gruppo totalizzante, esperienza che loro stesse hanno vissuto, direttamente o indirettamente. AIVS è nata con lo scopo di rispondere all'esigenza di coloro che non ce la fanno lasciare questi gruppi, o che una volta usciti si ritrovano abbandonati dallo Stato e dalle istituzioni, soli, perché tutti i loro punti di riferimento erano all'interno del gruppo, spesso senza lavoro, risorse economiche e con grandi problemi di reinserimento. Dai una scienza che non ha voce di far sentire la propria voce. Passerei ora la parola a Toni Occhiello, il presidente dell'Associazione Italiana Vittime delle Sette, che ci illustra la mission dell'Associazione. Grazie Luciana e grazie a tutti voi di essere intervenuti oggi. Vorrei dire che per me è veramente un onore potervi dare il benvenuto a nome dell'Associazione Italiana Vittime delle Sette e al contempo ringraziare il Senato per la sensibilità manifestata nel concederci questa prestigiosa sede per poterci presentare al mondo e a voi. Prima di entrare nel cuore dell'argomento di oggi, mi piacerebbe brevemente presentare la nostra iniziativa, la nostra mission. L'Associazione, come avete appena appreso dal video, nasce nel 2016 a opera di persone che hanno vissuto in prima persona o indirettamente l'esperienza di un gruppo totalizzante e che hanno avvertito la necessità di far fronte comune per fornire un concreto sostegno a tanti che oggi, anche mentre stiamo qui a parlarne, si ritrovano a vivere esperienze analoghe. L'AIVS è stata fondata col preciso scopo di rispondere alle esigenze di coloro che, una volta assorbiti da una cosiddetta setta, e noi usiamo questo termine per indicare una qualsiasi realtà sociale abusante che si tratti di religione o meno, poi non riescono più a lasciarla. Io stesso ne ho fatto parte per più di 30 anni, purtroppo. Ci rivolgiamo a coloro che, una volta usciti da queste vere e proprie dimensioni parallele, si ritrovano dimenticati dallo Stato e dalle istituzioni, come se fossero cittadini di serie B. Noi le chiamiamo vittime perché sono persone che hanno sofferto la tirannia e la manipolazione di questi gruppi, perché sono rimaste sole, dato che tutti i loro riferimenti erano all'interno del gruppo, perché le loro risorse economiche sono state quasi sempre prosciugate dalla setta e si ritrovano spesso senza occupazione ad affrontare enormi problemi di reinserimento in società, di natura pratica, psicologica ed economica. Molto spesso l'assenza dei punti di riferimento esterni fa sì che molti, in ultima analisi, finiscano per desistere dall'idea di abbandonare il gruppo, sebbene all'interno dello stesso vivano enormi difficoltà. E per coloro, per questi che navigano nel buio, all'ombra di questa realtà, l'Associazione italiana Vittime delle Sette vuole rappresentare un faro e soprattutto offrire un aiuto concreto lì dove lo Stato si mostra tuttora assente. Il fenomeno delle cosiddette sette, pur essendo molto più diffuso di quanto si creda o di quanto si sappia, viene regolarmente sottovalutato da chi lo critica, ma anche sopravvalutato da chi conta di trarne benefici politici. Il caso più recente e declatante è stato, ci dispiace dirlo, quello della concessione dell'otto per mille da parte del governo dell'allora premier Matteo Renzi alla Sograccai, una delle sette più ricche e pericolose del pianeta. Quando dico pericolose, ma intendo in senso criminale, lo dico con profonda conoscenza del problema, avendone fatto parte per 30 anni e conoscendo tutti in retroscena di questa pericolosissima setta che adesso è religione dello Stato. Fu una scelta bizzarra, bizzarra quanto opinabile quella di Matteo Renzi, che riteniamo decisamente motivata dalle vecchie logiche del voto di scambio. Una scelta che si è rivelata però, in definitiva, un vero e proprio inganno ai danni dello stesso Renzi, il quale aveva improvvidamente creduto sia alla millantata entità delle loro schiere e di adepti che al presunto orientamento politico degli stessi. Le istituzioni di cui si è detto tendono, se non ad incolpare, perlomeno a biasimare in modo più o meno esplicito le vittime stesse, poiché l'adesione a questi movimenti è perlopiù, almeno superficialmente, volontaria. Di conseguenza non offrono alcun sostegno sociale, economico o tantomeno psicologico e giuridico per aiutare costora ad avere un giusto indennizzo o a reinserirsi nel normale ciclo della vita. Potremmo dire che le vittime delle sette vengono in tal modo a trovarsi in una posizione niente affatto dissimile da quelle dello stalking o di uno stupro. Ergo sottoposte dalle medesime autorità ed istituzioni che dovrebbero proteggerle a screenings quantomeno condiscendenti, che spesso celano veramente il solito inconfessabile retropensiero, il solito pregiudizio, ma in fondo probabilmente se l'è cercata. Ecco, è perciò il nostro compito avvertirvi che chiunque, non solo uno sprovveduto, può caderci alla ricerca di valori in una società che ne è sempre più svuotata, in un momento di crisi della propria vita o magari perseguire un familiare o una persona cara. Ma per uno Stato che si definisce democratico è assolutamente iniquo puntare il dito e giudicare una persona che entra o cade in una setta. È invece fondamentale tutelare i diritti di tutti i cittadini, pure di chi è stato trascinato in meccanismi sempre più degradanti, invasivi e totalizzanti. Stati europei con una democrazia matura, quali Francia e Germania, conoscono molto bene questi meccanismi, tanto che hanno preisposto riferimenti legislativi ben precisi a contrasto di tali fenomeni. E lo stesso ha fatto l'Europa, le cui normative a riguardo vengono però ignorate da un solo paese, l'Italia. L'Italia è il paese dove la Sogracca e Scientology hanno le più ricche istituzioni, dopo gli Stati Uniti per quanto riguarda Scientology e dopo il Giappone per quanto riguarda la Sogracca. Scientology è più ricca in Italia di adepti e di liquidi, solo seconda a Scientology negli Stati Uniti. La Sogracca in Italia è la più ricca di tutto il pianeta, secondo solo al Giappone. E attenzione, quando si parla di Scientology, quando si parla di Sette, tutti hanno in mente Scientology perché è la realtà più diffusa, ma signori le cifre ci indicano che Scientology ha una membership di appena, fra virgolette, 400 mila membri e appena, sempre fra virgolette, 5 miliardi di dollari. Ove la Sogracca ha una membership di 10 milioni di membri in tutto il mondo e di appena 100 miliardi di dollari. E questa è una stima conservativa. conservativa. Quindi stiamo qui per avvertire le istituzioni. Questa è una religione di Stato dell'Italia, che in Giappone è considerata una business partner della Yakuza, cioè della pericolosissima mafia giapponese. E di questo io ho testimonianza ed esperienza diretta, che potrò condividere con chiunque voglia ascoltarmi. Comunque voglio concludere. Se è vero che in Italia sono stati fatti alcuni passi in avanti, perlomeno a livello legislativo, ad esempio sul fronte della violenza domestica, del femminicidio, del cosiddetto mobbing in ambito lavorativo e scolastico, altrettanto non è stato fatto per garantire la dovuta tutela a chi entra a far parte di gruppi che possono esercitare pressioni emotive, psicologiche ed economiche, se non veri e propri reati, fra quelli già riconosciuti. Ma così come la schiavitù era un errore già prima che venisse abolita, gli abusi compiuti da questi gruppi sono gravi anche se non sono ancora stati riconosciuti come reati. Non esiste nel nostro Stato, ad esempio, alcuna legge sulla manipolazione mentale. Cosa che, attenzione, nulla a che vedere con la vecchia legge sul plagio, repressiva e ideologicamente fascista. Qui non sono in discussione le aspirazioni dei movimenti, gruppi a sette, né il loro credo filosofia o ideologia. Qui si discute del rispetto, dell'integrità dell'individuo, della tutela della sua persona dal punto di vista fisico, emotivo e psicologico, della salvaguardia del suo patrimonio, del lavoro regolarmente retribuito, della libertà di lasciare il gruppo una volta che non ci si riconosce più nei suoi principi. Qui, in sostanza, e il Senato è la sede più appropriata per farlo, si parla di diritti. Il diritto di libertà di pensiero, di espressione, è quello di autodeterminazione. Noi crediamo che uno dei compiti di uno Stato moderno sia affrontare con moderno rigore la questione, affinché si possa finalmente tutelare anche i diritti del cittadino, il cui spirito critico, così come le difese immunitarie, può in determinati momenti rendersi più vulnerabile, esposto ai danni della manipolazione. Vi ringrazio di essere stati qui. Scusi, per dopo, siamo ancora... Sì, va bene. Grazie. Scusate l'interruzione, ma... Grazie, Toni. Passiamo adesso la parola alla dottoressa Lorita Tinelli, psicologa, fondatrice del Centro Studi e Abusi Psicologici e consulente del Centro Assistenza Psicologica dell'AIVS, che appunto ci presenterà il grande ospite di oggi, cioè questo Centro di Assistenza Psicologica che poi, insomma, l'apporto principale, ci pare di capire, dell'Associazione Italiana Vittima delle Sette. Sì, grazie. Io ringrazio Toni per avermi coinvolto in questo progetto importante. Ringrazio tutti quanti voi presenti. Stiamo parlando di un argomento sconosciuto a molti e, insomma, soltanto chi probabilmente ne viene coinvolto assume una consapevolezza dell'argomento. Però non è un argomento per poche persone, per pochi intimi. È un argomento che ci riguarda tutti quanti da vicino. Noi leggiamo di tanto in tanto quello che ci riportano dei media quando accade qualche fatto eclatante. Nel leggerlo ci stupisce il perché appunto la gente sia caduta in dinamiche strane. Mi viene in mente l'ultimo caso accaduto a Torino in cui un ex docente di matematica aveva organizzato, aveva costituito proprio un'organizzazione molto precisa, molto puntuale, attraverso la quale manipolava una serie di donne, facendo fare loro una serie di rituali magici, tanto da che confluivano in rapporti sessuali veri e propri. Una serie di donne sono rimaste incente. Uno diceva ma com'è possibile un'esperienza di questo genere? Insomma, siamo tutti adulti, leggiamo, sappiamo e di fatto però accade anche questo. In questo caso, 20 sono state le persone arrestate e chi ha condotto le indagini ha potuto verificare che c'era proprio uno studio nell'esercitare potere e quindi nell'organizzare questa situazione. quindi il problema c'è, ce lo riconosce anche l'Europa. L'Europa ha mandato una serie di raccomandazioni al nostro governo e a tutti gli stati membri nel corso degli anni in cui ci esorta, esorta il nostro Stato e tutti gli stati membri a elaborare delle politiche preventive perché purtroppo il problema delle sette esiste. Esiste ed è veramente un problema pesante. Lo riconoscono tutti, tutti gli stati membri dell'Europa riconoscono la presenza di sette dappertutto. Sette che si insinuano pericolosamente ovunque in associazioni di tipo culturale. Non è che un gruppo si dice setta, noi non troveremo mai questa definizione in capo a un gruppo, ma esistono associazioni di tipo sociale, culturale, associazioni che si occupano di sanità che in realtà portano con sé questo germe, quindi queste metodiche. A volte anche strumentalizzando la spiritualità, insomma in qualche modo andando lì a interessare quelli che sono i bisogni fondamentali dell'essere umano. Il nostro Stato, il nostro governo, ahimè, non ha recepito queste raccomandazioni. Mi piacerebbe capire il motivo di questo. Anzi, per di più, la mia domanda è davvero che cosa succede nel nostro Stato? Come mai non solo non attua politiche preventive, ma accoglie e incoraggia strutture riconosciute come pericolose e settarie? E facciamo un esempio concreto. Partiamo dall'esempio concreto, il caso Forteto. Non so se qualcuno di voi ha avuto modo di conoscere questo caso, che è sfuggito di mano dal controllo della regione toscana, finendo col mietere una serie di vittime fra minori. Il caso Forteto, c'è una comunità che nel corso degli anni ha avuto, ha ricevuto tantissimi minori dai tribunali della regione toscana, che venivano appunto condotti in questa comunità familiare e abusati e violentati da alcuni esponenti della comunità, tra cui il capo. Non lo sto dicendo io, ma ci sono condanne, condanne anche in appello, per cui la situazione è abbastanza conclamata. E dice un giudice, io ci tengo a leggerlo questo, perché proprio per far comprendere le dinamiche, dice che il Forteto fu un'esperienza criminale caratterizzata da regole assurde e crudeli. Il sistema pubblico, e parlo di tutte le strutture tribunali e tutte le strutture pubbliche appunto che avevano rapporti col Forteto, ha mantenuto costantemente aperta una linea di credito illimitata verso la struttura, nonostante gli arresti prima del 1978, perché il capo era stato già arrestato nel 78 per gli stessi reati per cui è stato condannato oggi. E poi nel 2012, dei vertici della cooperativa. Questo grazie anche alla linfa ricevuta da amministratori pubblici ed esponenti politici che hanno garantito sovvenzioni e sostegno istituzionale. Cioè, nessuno ha controllato negli anni cosa accadesse in questa comunità. Anche perché c'era stata la Corte Europea dei diritti dell'uomo che aveva già condannato l'Italia per le violazioni commesse nell'affidamento di due minori nella stessa comunità. Cioè, dove era lo Stato? Dove erano le istituzioni quando questo accadeva? Per 37 anni, non un giorno. Oggi Forteto è riconosciuta come una setta. Anzi, ci sono dei giornalisti che hanno proprio scritto un libro, La Setta di Stato, descrivendo nel dettaglio questa situazione. Ma andiamo avanti. Se vogliamo, i tribunali. Mi viene da pensare a un tribunale di Bari che, piuttosto che analizzare i reali reati commessi da un gruppo condannato per associazione a delinquere anche in appello, perde tempo a dire che questo gruppo non è condannabile per il reato di setta. Cioè, il reato di setta non esiste. Per cui, dicendo questo, ha consegnato nelle mani dello stesso gruppo un'arma per poter dire appunto che chi parla di sette sta farneticando e non sta rispettando in realtà quella che è la libertà di fede. Cosa che assolutamente non si vuole fare, non abbiamo voglia e intenzioni di fare. Ancora di più, aggiungo brevemente e poi concludo, nei mesi recenti la Camera ha ospitato tre grossi convegni di esponenti, di membri settali, vogliamo chiamare settali, vogliamo chiamare controversi, che sono venuti qui a reclamare dei diretti per la libertà di religione, che non è in pericolo. In Italia, mi sembra di dover assicurare tutti, la libertà di religione non è in pericolo. In pericolo sono i diretti di cittadini, che non possono essere considerati cittadini di serie B rispetto ad altri cittadini. E va sicuro che affrontare questi argomenti è davvero problematico per tutti quanti noi, per chi se ne occupa dal punto di vista scientifico e per chi se ne occupa come fuoriuscito, perché significa ricevere molestie, denunce, pedinamenti e quant'altro. Insomma, tutta una serie di, come dire, azioni che ciascuno di noi deve gestire e contenere senza il supporto dello Stato. Ecco, per concludere, quello che noi vogliamo proporre e presentiamo come nostra proposta è sì il centro ascolto a tutela delle tante vittime che ci sono, ma anche che lo Stato assuma una responsabilità in questo percorso. In altri Stati ci sono state delle istituzioni di osservatori interministeriali, una commissione fra Stato e studiosi del fenomeno. Cerchiamo di portare in Italia questo, perché questo fa parte della politica preventiva, questo ci fa conoscere meglio il fenomeno e ci fa aiutare veramente la gente. Grazie. Grazie Lorita, dottoressa Tinelli, adesso passo la parola all'avvocato Annalisa Montanaro, che è consulente del centro di assistenza legale dell'AIVS, perché appunto l'AIVS si propone di offrire consulenza e assistenza psicologica, ma anche consulenza e assistenza legale. Ci spieghi meglio, dottoressa Montanaro. Salve a tutti, sono molto contenta di avere questa opportunità di essere qui, anche perché io di sette e di gruppi religiosi che coercizzano il pensiero, non ho mai sentito parlare prima di incontrare queste persone che oggi mi hanno coadiuvato e che mi hanno preceduto nell'illustrare appunto la tematica che stiamo affrontando con grande competenza e con grande esaustività. Questa è un'opportunità che mi è stata offerta, io ringrazio il presidente Toni Occhiello, ringrazio Giuseppe Di Bello che è nella platea, che mi hanno consentito di conoscere queste persone per confrontarmi con una realtà diversa. Sono un avvocato, lavoro nell'ambito della violenza, esercito la mia professione essendo già specializzata nella violenza endofamiliare, intrafamiliare, quindi contro le donne, ma anche contro gli uomini, e ho riscontrato delle analogie molto interessanti per ciò che riguarda appunto la violenza che viene esercitata all'interno dei gruppi considerati sette. Loro, la dottoressa Lorita Tinelli, poco fa ci ha parlato della criticità di questo fenomeno. Io personalmente ho condotto degli studi cercando di approfondire il più possibile e mi sono subito resa conto che nella fattispecie concreta c'è una difficoltà incredibile nello scindere e nella divisione esistente tra la libertà di autodeterminazione di un individuo e quindi la possibilità di scegliere consapevolmente e scientemente di far parte di un gruppo e ovviamente la difficoltà che poi questo diventi una sopraffazione da parte del guru di turno che esercita la manipolazione mentale. La difficoltà è proprio questa. Io devo parlare ovviamente dal punto di vista tecnico e cercherò di non annoiarvi perché ovviamente le nozioni tecniche hanno questo rischio. La difficoltà è proprio questa. Lo sportello di assistenza legale che oggi qua presentiamo è unito a quello di psicologia, quindi alla difficoltà e ai danni che vengono riportati dalle vittime di questi gruppi ovviamente scusate il mio telefono ovviamente non offrono al legislatore degli strumenti pratici, concreti che è da utilizzare per affrontare queste questioni perché da una parte ovviamente c'è la tutela della libertà di religione della libertà di espressione, della libertà in generale dell'individuo dall'altra c'è l'abuso che viene commesso dalle sette oppure nel caso per esempio della famiglia da chi manipola il pensiero in modo da trarne un vantaggio personale. Qual è lo strumento attualmente che noi abbiamo a disposizione? L'analogia Qualcuno mi potrà contestare ma in ambito penale non è possibile è vero, infatti noi facciamo una fatica enorme a far rientrare i casi di manipolazione del pensiero incasellandoli in altri reati tipici per esempio viene molto in aiuto il reato di truffa perché sappiamo che in molti casi la manipolazione è tesa ad ottenere un interesse personale o un interesse comunque del gruppo o del direttivo di questi gruppi che poi ne approfittano in questo modo e la vittima subisce purtroppo questo impoverimento perché è costretta a magari grossi lasciti di denaro oppure donazioni oppure immobili intestati infatti il presidente Occhiello diceva giustamente non stiamo parlando di poveretti che stanno alla fame stiamo parlando di gente che ha attualmente e penso che questo sarà destinato purtroppo ad aumentare a dei patrimoni assurdi laddove pensiamo che magari questi patrimoni vengono sottratti alle famiglie e allora per esempio un altro caso pratico che ho affrontato in cui una donna che si era separata e aveva dei figli improvvisamente entrata in una di queste sette ha cominciato a detrarre mantenimento a sottrarre mantenimento per i figli e là ovviamente non abbiamo approfondito quello che è successo col patrimonio immobiliare ma pensiamo che subirà la stessa sorte che cosa è successo? il legale a cui viene affidato un caso di questo tipo ovviamente ha degli strumenti a disposizione sono degli strumenti di tutela ordinaria che riguardano la famiglia, la separazione nel momento in cui si rende conto quello che ho fatto io non so poi se otterremo i risultati però per il momento abbiamo ottenuto che una richiesta di archiviazione del PM è stata revocata e quindi ovviamente con pochi strumenti a disposizione abbiamo tentato attraverso la descrizione del caso di famiglia di far rientrare la questione sottoponendola al PM di turno incaricato da questo punto di vista cioè perché, qual è il movente che spinge una madre di quattro figli a sottrarre il mantenimento dei propri figli per fare invece donazioni ad una setta religiosa o ad una religione di stato come la vogliamo chiamare un interrogativo chi si trova di fronte a un caso del genere se lo deve porre perché è l'unico, ripeto l'analogia è l'unico strumento che attualmente l'avvocato di cui attualmente l'avvocato le operatori del diritto anche il giudice perché poi alla fine il giudice è rimesso all'interpretazione quindi anche il giudice con l'interpretazione di quello che poi è il caso concreto e di come viene incasellato con l'articolo che viene utilizzato dall'avvocato deve dare una risposta e volevo leggervi una frase che ho scritto nella mia relazione l'azione preventiva in questo panorama è fondamentale allora speriamo speriamo che i casi che vengano portati diminuiscano cioè quello per cui noi stiamo cercando di offrire supporto e sostegno e sostegno è proprio questo perché le vittime non si devono sentire sole neanche quando è l'ordinamento che non offre una tutela quindi non esiste un articolo che ti tutela da questo punto di vista perché vai a spiegare ad un giudice dove i giudici ovviamente non sanno di questa realtà come io non conoscevo prima di entrare in questa associazione cioè di fare parte dell'essere consulente legale di questa associazione quindi vai a spiegare ad un giudice che dove io sono entrata volontariamente ho seguito questo culto e mi è servito per affrontare un periodo particolarmente difficile della mia vita vai a spiegare che invece sono stata manipolata gestita dall'esterno per rimanere in quel gruppo e non uscirne mai più e dare anche tutti i miei beni è un po' vi renderete conto che è un po' complicato è un po' difficile il reato di plagio che è stato abolito grazie a Dio perché perché è l'unico caso di condanna per reato di plagio il caso Braibanti che io lascio non voglio neanche esprimermi in merito perché ovviamente laddove si parte da un pregiudizio sociale è abbastanza forte il fatto che sia stata l'unica condanna per il delitto per il plagio e questa persona fosse guarda caso un omosessuale quindi là poi sono entrati in ballo altre cose il reato di plagio può essere sostituito compito di questa di questa associazione è anche questo cioè quello di riuscire a trovare degli strumenti attraverso uno studio specifico uno studio approfondito dei casi reali che vengono sottoposti e che vengono alla luce perché c'è tanto anche di sommerso attraverso lo studio di casi reali di una proposta di legge è un progetto molto ambizioso mi rendo conto perché ci hanno provato anche successivamente all'abolizione della legge di plagio perché c'è stata nel 4 marzo del 2004 la commissione giustizia del senato ha approvato proprio il il testo di legge manipolazione sulla manipolazione mentale anche questo questo articolo aveva delle criticità non superabili proprio perché non garantiva non garantiva appunto la libertà di esercitare il proprio pensiero di autodeterminarsi e quindi caduto nel nulla anche questo noi ci proviamo ci mettiamo a servizio di coloro che hanno subito dei danni in maniera diretta di coloro che indirettamente sono stati colpiti e ovviamente come ho accennato prima la cosa importante fondamentale è che venga rafforzata la libertà non di autodeterminazione in generale dell'individuo ma delle singole scelte e decisioni che questo assume e compie di volta in volta la valutazione del legislatore nell'individuazione di un ragionevole punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali coinvolti deve essere compiuta pur sempre ed in ogni caso nel rispetto della dignità della persona ho concluso grazie 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 dottoressa Montanaro diamo il benvenuto e la parola così insomma immediato alla giornalista e consulente dell'associazione AIBS Raffaella Ginepro che ci racconta devo purtroppo pregarla di essere breve di sintetizzare quanto più possibile la sua esperienza in un gruppo totalizzante prego buongiorno scusatemi ma bisogna ringraziare le ferrovie e dello Stato sarò brevissima e cerco di passare ai punti fondamentali voglio raccontare della mia esperienza io ho vissuto per 23 anni all'interno di un gruppo e 11 anni fa ho lasciato questo gruppo non vi voglio raccontare tanto la permanenza all'interno di questa realtà quanto che cosa è accaduto nel momento in cui ho deciso di lasciarla e successivamente allora questo gruppo era era un gruppo con un leader carismatico con una gerarchia molto fitta molto molto rigida all'interno era un gruppo che esercitava molto controllo a livello personale a livello sociale politico emotivo sessuale e quant'altro era un gruppo che creava delle grosse barriere alle persone alla loro possibile fuoriuscita barriere di carattere soprattutto economico di carattere psicologico di carattere di reinserimento sociale avendo creato delle barriere e dei vuoti intorno alle persone era un gruppo che riscriveva il proprio linguaggio quindi reinventava i cicli e i ricicli aveva una propria letteratura un proprio linguaggio propri giornali una scuola con insegnanti non non formalizzati per i per i ragazzi che vivevano all'interno al contempo era una realtà che apriva invece con molto interesse i propri salotti a quelle che erano le istituzioni alle forze dell'ordine ai magistrati ai politici di turno cercando comunque di ingraziarsi i potenti del momento aveva in pratica tutti quegli elementi che la letteratura specializzata stabilisce essere i criteri che determinano se un gruppo è una setta oppure no quindi parlerò di setta ne parlo perché non l'ho detto io ma perché lo dicono gli esperti sono entrata in quel gruppo 34 anni fa ero diciottenne ero piena di illusioni ed ero anche molto arrabbiata con quella che era la situazione del mio paese in quel momento con la situazione sociale con la situazione politica e quindi questo mondo mi era sembrato un pochino il mondo delle meraviglie dove trovare qualche cosa di diverso da fare e da fare in meglio oggi sono 11 anni che ho lasciato quel gruppo è la prima volta che ne parlo in pubblico quindi è una anteprima e moltissime persone so che vivono ancora lì in condizioni di fortissimo disagio sono infelici ma non sono riuscite a lasciare Damanhur sto parlando di Damanhur è una comunità in Piemonte se ne è parlato tanto troppo secondo me e queste persone non lasciano non sono in grado di lasciare Damanhur perché principalmente non hanno un lavoro non hanno bene materiali non hanno sviluppato delle competenze professionali che permettano loro di ad esempio trovarsi un lavoro al di fuori della comunità quando io ho lasciato la comunità che cosa ho fatto la prima cosa è stata rivolgermi alle forze dell'ordine per raccontare che cosa succedeva all'interno di quel gruppo ovviamente parlo di tutta una serie di fatti che non erano leciti che erano reati non l'ho fatto solo io perché nel periodo in cui ho lasciato Damanhur altre 20-30 persone l'hanno fatto e hanno seguito lo stesso iter cioè sono andati a raccontare prima i carabinieri e poi alla polizia di stato quanto succedeva quello che ci siamo sentiti dire dalle forze dell'ordine in vari momenti è stato questo e con questo ordine innanzitutto che noi eravamo entrati nel gruppo di nostra spontanea volontà secondariamente che i reati che denunciavamo erano di difficile dimostrazione parliamo di truffe voti di scambio raggiro di incapaci parliamo di dubbia moralità sui minori parliamo di false residenze parliamo di lavoro nero parliamo di giri di denaro importanti secondariamente tutti ci hanno detto che tutto sommato a meno che ci fossero prove di reati molto gravi molto gravi preferivano non intervenire perché le sette hanno dei legali molto ben preparati successivamente a questo ho intentato una causa di lavoro contro Damanhur ho vinto l'appello perdono ho vinto il primo grado e all'appello un giudice ha applicato delle norme un misto fra diritto canonico e norme che si applicano allo stato del vaticano e alla chiesa cattolica decidendo di scorporare Damanhur dallo stato italiano quindi applicando delle leggi che sono quelle che vengono utilizzate per i religiosi stabilendo che permettetemi forse non è giuridicamente corretto quello che dico ma è la sostanza stabilendo che il lavoro nero ad Damanhur in una setta è accettato non è successo solo a me una sentenza copia e incolla ha stabilito la stessa cosa per una mia ex collega e quindi questi sono alcuni dei fatti salienti forse mi sono chiesta avrei dovuto fare come hanno fatto altri prima di me che in cambio di una magnanima piccola donazione che hanno ricevuto hanno tenuto la bocca e gli occhi chiusi io non l'ho fatto perché questa attitudine mi sembra che indichi altro in questa siamo in una sede prestigiosissima io sono veramente onorata di essere qui a raccontare queste cose in questa sede da anni si discute del reato di manipolazione mentale io ovviamente non ho sentito quello che è stato detto prima ma se ne parla da anni e la cosa che mi lascia perplessa è che chi ne discute sono politici che molto spesso sono stati a stretto contatto con Damanhur con la Soga Gakai con Scientology e con altri gruppi di questo genere e gruppi che hanno delle loro rappresentanze e soprattutto hanno molti cittadini votanti e ubbidienti sono stata poi seguita da una psicologa sono andata da una psicologa della ASL di Torino e è stata un'esperienza molto illuminante la psicologa ci ha messo sei mesi a capire di che cosa stavo parlando in quanto la preparazione in materia è pari a zero che cosa succede a chi lascia questi posti la vergogna l'imbarazzo il pudore la paura è un dubbio che poi diventa una certezza quello di essere trattati da cittadini di serie B per via di questa esperienza una volta che se ne esce diventa una certezza perché l'iter è quello che vi ho raccontato e non l'ho vissuto solo io l'hanno vissuto moltissime persone moltissime persone che non sono qui a parlare oggi sono molto probabilmente più di quelle che sono rimaste all'interno di questi movimenti sono una minoranza silenziosa però siamo cittadini come gli altri che abbiamo vissuto delle esperienze che ci hanno segnato non siamo noi i colpevoli e siamo numerosi in uno stato democratico dovrebbero essere tutelate le necessità i bisogni di tutti dovremmo tutti avere diritto ad un risarcimento laddove è dimostrato che ci siano che ci sia qualche cosa da risarcire ecco allora io quello che chiedo e poi termino nell'auspicarmi che la nascita di questa associazione davvero riesca a realizzare la sua mission davvero riesca a dare voce a questa numerosa minoranza è un ossimoro a me piacciono molto gli ossimori e vorrei invitare chi ci ascolta a tenere conto appunto di quello che ho appena detto cioè siamo in uno stato democratico anche noi siamo elettori e siamo cittadini ho finito grazie Raffaella dunque adesso credo con l'accordo di tutti gli iscritti alla tavola rotonda visto che abbiamo insomma tempi strettissimi e l'obbligo di concludere i lavori entro le 12 passerei la parola e li ringrazio ovviamente per la loro presenza al senatore Pietro Liuzzi membro della commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere e alla dottoressa e senatrice Angela Donghia sottosegretario di stato per l'istruzione l'università e la ricerca dunque rapidamente introduco l'intervento di Raffaella ma prima quelli di Toni di Lorita e dell'avvocato Montanaro da questi interventi si configura una rappresentazione di questi gruppi totalizzanti sono stati definiti in questo modo come di uno stato nello stato insomma quasi con leggi proprie con regolamenti che a volte mi pare di capire e correggetemi naturalmente se sbaglio confliggono con quelli delle istituzioni propriamente dette ecco e poi è stata anche segnalata non voglio dire non voglio usare il termine denunciata ma insomma ci starebbe anche questo la vacazio legis cioè di fatto manca questa legge della manipolazione mentale mi pare che questo sia un punto e inoltre la presenza nel corso degli ultimi anni solo per stare come dire ai tempi nostri di molte interrogazioni parlamentari sul tema rimaste lettera morta ecco chiedo ai nostri politici presenti in sala a che punto è la notte su questo su questo tema grazie quindi do la parola al senatore Liuzzi grazie sono lusingato dell'invito e rivolgo le congratulazioni vive piene per l'iniziativa e per aver deciso di partire immagino per un nuovo percorso per approcciare avvicinarsi e approfondire il fenomeno da una sede istituzionale quale appunto il senato della repubblica cioè il parlamento e qui mi sembra che i vari interventi tutti di grande interesse hanno messo in evidenza che quello che appare essere un vuoto legislativo mi sembra sia poi il cardine di un diciamo di una constatata e consapevole necessità da cui appunto partire mi piace fra l'altro sapere che e farvi sapere che fra pochi giorni per una diciamo riminiscenza di natura storica e anche antropologica il 29 di giugno San Pietro e Paolo in quel di Galatina nel Salento si svolge oggi francamente con residuali diciamo fenomeni di di adepti un rito che è legato al grande e diciamo fascinoso tema della Taranta ovvero di quello che poi è accaduto anche in termini di evidenza propria di una terra che ha i forti connotati culturali che appunto è legato appunto al al mito della Taranta ovvero del pizzico del morso della Taranta scagionato e quindi con un grande demo antropologo quale appunto è stato Ernesto De Martino che ne ha studiato appieno la diciamo le origini della storia e anche le evoluzioni e beh insomma questa questo che oggi potremmo sicuramente rubricare in un fenomeno sicuramente di credenze popolari e folklore e il valore del folklore nella evoluzione sociale di una comunità attengono a un fenomeno di condizionamento quale appunto è il principio cardine che sussiste che è di base a tutti i fenomeni fin qui denunciati particolarmente quello delle sette condizionamento ma mi rendo conto che rispetto a quel periodo storico che prevalentemente risale al sette ottocento e ovviamente poi con strasciche anche nel primo novecento il ceto che è più condizionato ovvero interessato è ovviamente un ceto poco abbiente si va diciamo prevalentemente nei ceti poveri meno diciamo istruiti e quindi meno dotati dal punto di vista economico il fenomeno invece oggi ritengo delle sette riguarda invece un fenomeno un ceto che riguarda dicevo la middle class particolarmente e particolarmente quelli che sono detentori di patrimoni in primis che hanno ovviamente un grado di istruzione diciamo anche diciamo medio o elevato e che e che appunto diciamo percepiscono del loro diciamo tragitto diciamo legato appunto alla loro vita un momento di assoluta recessione immagino dal punto di vista evolutivo psicologico delle certezze delle certezze individuali e collettive e un fenomeno che ovviamente si insinua particolarmente in quei momenti della storia di una comunità piccola o grande che coincide con una grave crisi di natura sociale economica e ovviamente morale morale e qui che insomma questo non soltanto per una curiosità storica ma anche per segnarne la diciamo diversità di inquadramento nella evoluzione della storia e dei fatti e dell'attualità questo diciamo accade è accaduto in Italia ma ricordo che per quanto mi riguarda un primo devastante impatto devastante dal punto di vista psicologico per quanto mi riguarda risale al 1978 a proposito di quel suicidio di massa che fu perpetrato all'epoca negli Stati Uniti dal cosiddetto reverendo Jim Jones a Johnstown si chiamava la città quasi mille morte quasi mille morte bene venendo all'Italia tutto questo esatto proprio per per stringere per apprezzo il contributo che qui è stato dato particolarmente dall'avvocato Montanaro quando ci ha detto partiamo ora da che cosa si fa un tavolo tecnico è stato auspicato ritengo che il Parlamento nelle sue varie articolazioni Camera e Senato debba partire da questo presupposto di instaurare un tavolo tecnico sono stato fra l'altro anche fra coloro che hanno sottoscritto una interrogazione per denunciare ovviamente il fenomeno e ahimè non diciamo non proprio diciamo non è arrivata una risposta al riguardo però insomma questo non deve farci desistere dalla necessità di porre il problema in termini molto molto più stringenti chiaramente coinvolgendo sensibilità politico culturali trasversali per essere in tema perché questa necessità è così avvertita dove ovviamente dobbiamo mettere il cittadino in grado di avere certezze assicurazioni in grado di guardare ancora lo Stato come baluardo per la propria incolumità fisica psicologica in grado di assicurare lo Stato ai cittadini la integrità chiaramente prima di tutto patrimoniale e poi dal punto di vista della qualità della vita perché ognuno di noi non può rinunciare a questo presupposto di natura etica morale e ovviamente sociale ecco questo per quanto mi riguarda è un impegno che prendo qui al consesso in questo consesso e al cospetto appunto degli autorevoli membri di questa bella conferenza stampa e ovviamente di quanti come voi siete intervenuti al riguardo grazie 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 senatore Luzzi do la parola adesso come detto alla senatrice Angela Donghia chiedendole in qualità di sottosegretario di Stato per l'istruzione all'università e la ricerca un suo intervento al riguardo delle politiche di prevenzione su questo fronte che pure è un argomento che pure è stato posto all'evidenza quest'oggi a lei la parola grazie intanto vorrei ringraziare tutti e darvi il benvenuto qua in questa sede che è una sede come diceva la la dottoressa Ginepro una sede importante dove ogni italiano si dovrebbe sentire tutelato e devo ringraziare la dottoressa Lorita Tinelli che qualche settimana fa mi ha indottrinato in parte sul discorso delle sette perché io da persona completamente ignorante in materia non pensavo che il discorso che le sette fossero così radicati e presenti nel nostro territorio giustamente come è stato detto in vari interventi uno ha conoscenza di questo soltanto se capita a se stesso o a delle persone a lui vicino quindi io ringrazio la dottoressa Tinelli per avermi parlato di questo fenomeno perché come sempre i fenomeni vanno attenzionati e soltanto portandoli all'attenzione di chi poi se ne deve occupare forse si riesce ad ottenere qualcosa io sono sempre molto prevenuta nei discorsi di nel momento in cui dobbiamo affrontare ma non prevenuta perché non credo prevenuta perché mi rendo conto che ogni volta che si va a parlare di argomenti così delicati e così difficili così come diceva il dottore che ha parlato prima come diceva la stessa Lorita Tinelli come diceva l'avvocato ci sono tanti tanti problemi che vengono innescati e che bisogna man mano disinnescare per portare avanti dei progetti quello che voi state presentando qui oggi sicuramente è un progetto importante io quando parlavate pensavo a questa che poi effettivamente è una dispersione sociale perché quando una persona entra in una setta mi pare di capire che è una persona che noi perdiamo allora questo è un paese che si occupa della dispersione scolastica si occupa della dispersione di vari tipi di dispersione però non siamo non abbiamo mai attenzionato un problema come questo che è effettivamente una dispersione sociale quindi io penso che quello che voi chiedete un osservatorio da parte dell'organo che è lo Stato dell'organo più importante dello Stato del Governo sia una cosa importante ed è una cosa che attualizzabile che può essere attuata sicuramente un osservatorio dobbiamo capire insieme a quali ministeri questo osservatorio deve con quali ministeri deve nascere perché perché è importante che i ministeri che devono essere attenzionati e devono far parte di questo osservatorio devono essere poi quelli che si devono occupare delle varie sfaccettature e così pensando sempre mentre l'ha seduta ad ascoltare i vari interventi penso che debba interrare il ministero della giustizia ma forse quello della sanità quello della pubblica istruzione cioè ci sono una serie di aspetti che vanno valutati io vi faccio una domanda e vorrei da voi delle risposte e me le aspetto anche scritte vorrei capire se esistono dei dati su quelli che sono i ragazzi in età scolare in età scolare o in età formativa che vengono dispersi tramite queste sette questo sarebbe un dato importante per noi per capire quanto il fenomeno attenzione al mondo della scuola e al mondo della formazione sono dei dati importanti dei dati sensibili perché ci servono anche per competere in maniera diversa con questi che sono dei fenomeni che vanno a distruggere quello che è il nostro capitale umano quello che è la nostra società quindi io dico poi sentivo parlare di risarcimento io penso che sia difficile parlare dottoressa di risarcimento morale perché quello che una persona perde negli anni in cui è all'interno di queste di queste sette è proprio una la moralità perde l'amore per se stesso quindi è difficile parlare di risarcimento secondo me dobbiamo puntare e parlare di prevenzione perché la prevenzione è utile la prevenzione è importante la prevenzione serve per salvare un patrimonio che è quello dei nostri giovani che è quello dei nostri ragazzi perché quando una persona come lei ha detto prima entra a 18 anni e ne viene fuori a 30 anni è difficile risarcire 20 anni di vita è difficile risarcire 20 anni di gioia di dolori di passione di amore di tutto di tutto quello che fa parte della propria vita quindi io penso che noi dobbiamo lavorare tutti insieme affinché si faccia prevenzione affinché la conoscenza di questi fenomeni porta a fare prevenzione quindi io sentivo che ci sono state molte interrogazioni parlamentari e devo dire che tenterò di capire a quali ministeri presso quali ministeri sono fermi queste interrogazioni parlamentari anche per comprendere perché non vengono date delle risposte e sono contenta di aver partecipato qua oggi sicuramente per come sono abituata a fare continuerò a seguirvi perché voglio capire il vostro come andrete avanti da oggi in poi come opererete sicuramente mi terrò in contatto con la dottoressa Tinelli e poi se riuscite a farmi avere questi dati per età per poter comprendere il fenomeno come si avvicina al mondo dei giovani quanto questo fenomeno distrugge la vita e crea dispersione tra i giovani se posso introiettare un dato qui senatrice se mi consente ci sono sette strutturate appositamente in divisioni le chiamano divisione giovani divisione bambini anche dove i figli degli adepti vengono letteralmente indottrinati e raggruppati la famigerata Sokara Kaig di cui prima si parlava ha una sua divisione che chiama divisione futuro essi stessi nelle loro pubblicazioni finanziate ahimè dallo Stato italiano propugnano o richiedono la collaborazione dei loro adepti nell'iscrivere i loro bambini anche in età quasi prescolare a queste famigerate divisioni un modello organizzativo che lo dico senza tema è stato da essi mutuato direttamente da un archetipo nazifascista del resto assolutamente non sconosciuto al sistema nipponico imperiale prebellico quantomeno che organizzava appunto i giovani in queste divisioni giovanissimi e giovani anche in età prescolare questo esiste questo è portato avanti da una religione di Stato dello Stato italiano una religione che non è religione che ha mutuato hijacked scippato il termine buddismo se ne è appropriato per una comodità meramente politica economica affaristica e che oggi è religione riconosciuta allo Stato italiano con tanto di 8 per 1000 ora se questi fatti che sono fatti documentati non vengono portati all'attenzione delle istituzioni e questo è perché noi chiediamo umilmente rispettosamente la vostra collaborazione allora questo fenomeno resterà sommerso e queste sette resteranno libere di organizzare lo Stato nello Stato che stanno già attivamente propugnando e dove l'Italia attenzione poi concludo scusate questa introdizione è diventata il trampolino di lancio di queste sette che sono proibite in Francia proibite in Germania ristrette in Grecia e in altri paesi europei e sanzionati dalle stesse normative europee perché l'Italia ignora queste normative e si fa trampolino di lancio di queste sette è la domanda che umilmente chiediamo all'istituzione poniamo all'istituzione va bene io sono anche convinta di un'altra cosa che ogni volta che questi problemi vengono attenzionati in maniera forte e in maniera costante sicuramente si giunge a produrre dei risultati dei buoni risultati per per tutti i cittadini del paese quindi è importante il vostro ruolo il ruolo di un'associazione che deve puntare a una salvaguardia del bene comune è una cosa che sicuramente farà in modo che l'attenzione del Parlamento l'attenzione del governo non 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 rimanga rimanga un'attenzione vera forte quindi noi siamo qua io ho detto che voglio vedere questi dati questi mi servirà poi vi farò altre domande su quello che lei ha detto lo farò direttamente alla dottoressa Tinelli perché voglio anche capire altre cose che secondo me a questo punto sono di interesse del Ministero che rappresento comunque oggi noi abbiamo il Presidente Gentiloni che in aula parla di una nuova Europa è giusto che in questa nuova Europa noi parliamo di quelli che sono i problemi nuovi che affliggono il nostro mondo e di cui non possiamo far finta di non sapere non conoscere perché ogni problema nuovo sarà un problema futuro per i nostri figli quindi ognuno di noi deve avere la possibilità domani di potersi guardare allo specchio e dire che qualcosa per questi giovani che vengono dopo di noi è stata fatta con serietà quindi vi faccio tanti auguri e spero che voi potrete con il vostro lavoro potrete attenzionare la politica a questo fenomeno grazie grazie senatrice dell'India dunque chiedeva la parola Maurizio Alessandrini presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime delle Sette Onlus prego mi corre l'obbligo di raccomandare brevità perché insomma dobbiamo lasciare la sala la signora già ci sta invitando a lasciare la sala prego grazie sono presidente di questa associazione italiana di ascolto e di supporto di vittime delle Sette e dei loro familiari e opera sul territorio regionale Emilia Romagna ma anche nazionale tra 17 anni volevo rivolgere una alla signora Natalia la dottoressa Donghia io ho incontrato il 10 di maggio un suo collega sottosegretario alla istruzione dottor Vittorio di Filippo e ho proposto tutta l'attività di informazione e prevenzione nelle scuole superiori che l'Europa ci chiede da 29 anni lo Stato è assente di queste cose abbiamo partecipato alla promozione di nuove interrogazioni parlamentari e di una mozione parlamentare non hanno ricevuto nessuna di queste nessuna risposta l'Italia quindi è proprio indietro in tutto questo e volevo prima dire una cosa all'avvocato che ha parlato prima che dobbiamo specificare che nessuno entra in una setta nessuno vuole entrare in una setta nessuno sa di entrare in una setta altrimenti non lo farebbe le sette hanno una maschera molto pacificante molto coinvolgente ti parlo di sette abusanti ti promettono la risoluzione di tutti i tuoi problemi nella maniera più dolce e in Italia negli ultimi anni si sono diffuse delle sette molto pericolose che entrano nel campo della salute fortunatamente una è sotto inchiesta si chiama si chiama onde delta un'altra setta di tipo religioso è sotto inchiesta in Toscana e la dottoressa Pietro Giusti pubblico ministero di Firenze è riuscita è riuscita ad applicare la legge sulla schiavitù sulla riduzione di schiavitù che mai in Italia era stato fino ad oggi utilizzato poi un'altra il Forteto poi un'altra che è in altra regione però sono troppo pochi i processi che vanno avanti perché chi va a fare le denunce non ha di fronte dei supporti giuridici sufficienti per poter incriminare coloro che li hanno ridotti in questo stato e come ripeto i danni che una persona riceve all'interno di questa organizzazione non finiranno mai nella propria vita ci sono persone di nostra conoscenza che sono 6-7 anni che sono sotto forma di terapie e ogni tanto hanno delle ricidive delle ricadute ci sono stati dei suicidi e delle sparizioni e questo stato in Italia non fa nulla manca soprattutto nella prevenzione come dicevo prima manca l'istruzione a livello di stati di polizia riguardo a questo fenomeno preoccupantissimo infatti prima l'aveva detto la signora fuoriuscita da questo gruppo non sanno di cui stai parlando di cosa stai parlando non sono istruiti pochissime persone psicologi della polizia in Italia sono al corrente di tutto questo e sanno di che cosa si parla quando si va a fare le denunce e questa cosa è gravissima perché i cittadini italiani non hanno tutela in questo senso proprio a livello di stato di polizia c'è la squadra antisette in Italia istituita nel 2007 io sono andato pochi giorni dopo ci doveva essere anche la dottoressa Tinelli e mi hanno dato l'incarico di essere referente delle associazioni purtroppo la squadra antisette è esclusivamente un compito di polizia cioè repressivo e non di formazione e di prevenzione quindi noi siamo indietro come siamo rimasti indietro nel campo della prevenzione della droga che doveva essere già iniziato 40 anni fa questo qui è un caso ed è pericolosissimo perché le conseguenze una persona se le porterà dietro dentro di sé per tutta la vita e questo è grave e ci sono vittime primarie e vittime collaterali che sono le famiglie che soffrono per tutto questo e questo va ribadito ecco perché viene coinvolta la società non solo la prima vittima ma tutte le vittime collaterali inoltre le associazioni hanno subito anni fa il furto di posta telematica ed è stato ordito un piano di denigrazione non solo di denigrazione ma di diffamazione su un sito anonimo gestito noi sappiamo da chi non lo diciamo pubblicamente perché temiamo le loro accuse le loro diciamo strali di tipo giuridico non sappiamo chi e hanno utilizzato e continuano a pubblicare sono stato fotografato quando sono andato al convegno della federazione europea di centri ricerca e informazione sulle sette a copenhagen mentre aiutavo un collega fuoriuscito dalla stessa gruppo settario della signora che era caduto ed era tutto ferito nella testa tutto sporco di sangue e con una descrizione sotto una dirisione lui Alessandrini sotto braccio al signor X a Miconi mentre questo era tutto un brattato di sangue fotografato di nascosto pubblicato su questo sito la mia vicepresidente è stata fotografata di nascosto sono state fatte l'azione sulla sua vita privata e pubblicate su questo sito quindi noi sappiamo che vi è un insieme di potentati economici che sono sette abusanti che ci combattono in questa maniera disonesta abbiamo fatto le denunce aspettiamo che vada avanti il processo purtroppo la nostra giustizia è troppo lenta grazie io concludo grazie grazie dottor Alessandrini nel rinnovare il ringraziamento ai presenti ci avviamo alle conclusioni e dunque ringrazio per la presenza tra gli altri il professore Roberto Cipriani insomma docente di sociologia delle religioni all'università Roma 3 il tenente Giuseppe Di Bello che è cofondatore dell'associazione italiana Vittime delle Sette con il dottor Occhiello ringrazio la dottoressa Immacolata Giuliani criminologa il dottore Aldo Marinacci psicologo del centro di assistenza dell'AIDS e psicologo clinico e consulente sessuale il giornalista Stefano Piterelli autore con Gianni Del Vecchio di Occulto Italia pubblicato qualche anno fa per i tipi di rizzoli e il giornalista Valentino Sgaramella giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno che sta preparando con la dottoressa Tinelli un libro insomma su questo argomento insomma così ne sapremo sempre di più che mi pare di capire male non fa e il blogger Riccardo Finamore autore con Luca Sadaka di un documentario Soga Gakkai Buddismo Osetta nel lasciarvi e nell'augurarvi buona giornata buon proseguo vi do l'appuntamento ad un ad un incontro un incontro convegno che si sta che l'AIDS sta organizzando ad ottobre nell'ambito del quale ci sarà spazio per per gli interventi insomma di tutti di tutti i relatori iscritti oggi a parlare grazie di del del dottor Finamore e dobbiamo chiedere se possiamo proiettare però mi dicono cinque minuti giusto abbiamo ancora cinque minuti benissimo e allora ci la facciamo via grazie no certo certo soltanto che sta con i tempi capestro riduciamo i tempi roberto baggio da molti anni buddista e seguace del sutra del loto è venuto a portare la sua testimonianza ai praticanti piemontesi per l'inaugurazione della loro nuova casa un'associazione religiosa malaica da soka gakkai nata negli anni trenta in giappone e poi diffusasi in tutto il mondo sulla base degli insegnamenti del monaco nishirendaishoni tre anni fa quando sono stato qua e quello che è rimasto anche per una serie di relazioni di amicizia con alcuni di voi è il primo motivo che vorrei sottolineare e evidenziare la firma dell'intesa è un fatto costituzionale un fatto istituzionale un fatto importante credo che tocchi il cuore di voi come fedeli della soka gakkai ma tocca anche la nostra stessa idea d'italia da quando il progetto da grande voglio fare il buddha ha preso vita in molti mi hanno segnalato un gruppo a quanto pare buddista chiamato soka gakkai raccontandomene di tutte e di più e facendo suonare il mio campanellino d'allarme ma cos'è la soka? quali sono le controversie che gli girano attorno? questo mio amico è stato accalappiato dalla soka in questo senso perché aveva lui veramente dei problemi problemi con la famiglia problemi di lavoro questa è la dinamica con cui vengono accalappiate le vittime viene fatto un cold reading della potenziale preda della vittima e si gioca su quello ho trovato un foglietto un foglietto nel quale c'era scritto il mio nome sul quale si diceva che io dovesse andare via di casa tra i vari obiettivi che se davano c'era pure il mio nome si discuteva di quanto zaimo o quanto offerta facesse si discuteva di come incentivarli a fare di più si discuteva persino entrando nella sfera del privato del familiare del fatto se la loro compagna o moglie li appoggiasse o li ostacolasse meno nella pratica se li ostacolava si studiava il modo di farli separare ci sono stati dei momenti difficili in cui i rapporti familiari sono proprio inclinati per lunghissimi anni i miei parenti amatissimi se entravano in casa succedeva un po' insomma sarebbero stati momenti difficili ecco tentò più volte di portarmi dentro ma io proprio più tentava più sentivo che questa cosa non era sana non era giusta usavano delle giovani donne per sfasciare il matrimonio della vittima prescelta qualcuno aveva riferito alla mia ex moglie che non faceva zaimo le donazioni e loro dicono più doni e più benefici ricevi cioè questa è un po' la teoria è che come tutti sanno la Sokara Khaia ha interessi anche economici non solo nella madre patria ma un po' dappertutto quando sono stato a Shin Uzo come si chiama non ricordo più il quartiere generale della Sokara Khaia a Tokyo tutto il quartiere è letteralmente presidiato da questi men in black seppi poi appresi poi che questi men in black sono tutti membri della Yakuza per chi non lo sa è la mafia giapponese non sarei mai aspettato una roba del genere morbo diciamo della setta perché poi quello è il problema quando diventa setta sostiene di essere stata violentata in gruppo da un gruppo di responsabili della Sokara Khaiai diciamo che i figli, tutti i figli hanno spontaneamente deciso di voler continuare a stare con me quando uno comincia ad abbandonare la Sokara Khaiai prima messaggi, telefonate, chiacchierate amichevoli per cercare di convincerti ad entrare e poi si passa alla minaccia ho ricevuto telefonate di minacce mi ha telefonato persino il presidente della Sokara Khaiai italiana il signor Mitsuyo Kaneda che mi ha detto Tony, adesso devi smetterla con le tue cose online altrimenti puntini, puntini, puntini sono andato ai Carabinieri e l'ho denunciato per minaccio Esatto, avete capito proprio bene si parla di violenze, abusi, contatti con la criminalità organizzata ed è proprio per questo che abbiamo deciso di indagare grazie 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 a tutti in ultimo mi corre l'obbligo anche di portare i saluti di Donaldo Buonaiuto dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII che purtroppo, insomma, impossibilitato a partecipare ha comunque mandato il suo saluto e il suo sostegno all'AIDS per l'azione intrapresa grazie ancora e buona giornata grazie 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 Grazie.